A chi non è mai capitato di prendere in mano la fotocamera e rendersi conto di aver lasciato delle impostazioni sbagliate dall'utilizzo precedente? Forza sulle mani a chi non è mai capitato. A me succede spesso. Nel video di oggi facciamo una classifica delle dieci cose più fastidiose che ci dimentichiamo di rimettere a posto dopo l'utilizzo della nostra fotocamera. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia da tanti anni, di errori in vita mia. Ne ho fatti tanti e nel corso del video di oggi vado a raccontarvene qualcuno in maniera tale che riusciate a farne di meno nel corso della vostra esperienza fotografica. Se volete continuare a ricevere suggerimenti utili come questi io vi consiglio di iscrivervi subito al mio canale. Lasciate anche un bel like a questo video perché in tempi di crisi fa sempre bene. Molto bene ma partiamo subito a bomba. La prima cosa che ci si dimentica molto spesso è lo stabilizzatore. Sui selettori dei nostri obiettivi, la maggior parte delle volte si trova sull'obiettivo, abbiamo un pulsante on off e può capitare che ce lo dimentichiamo in posizioni diverse da quella desiderata. Per esempio, normalmente lo stabilizzatore è inserito perché stiamo utilizzando la nostra macchina. Ma che cosa succede se la mettiamo su treppiede? Che spegniamo lo stabilizzatore. Lo spegniamo sia per risparmiare batteria sia perché banalmente lo stabilizzatore quando la macchina è ferma può lui stesso andare a introdurre movimento cercando di cancellarlo. Quindi spegniamo lo stabilizzatore, poi togliamo la macchina dal treppiede e magari ricominciamo a scattare le nostre fotografie e abbiamo dimenticato lo stabilizzatore spento. Con il risultato che magari credendolo acceso andiamo a scattare con dei tempi di posa troppo lunghi e rischiamo tornati a casa di accorgerci di avere delle fotografie mosse o micromosse. Veramente un peccato. Un'altra cosa che può capitare di dimenticare è il selettore RAW o JPEG. Sapete che le nostre fotocamere ci permettono di scegliere in che formato vogliamo salvare i nostri file. Noi possiamo scattare in RAW e quindi avere tutti i negativi digitali, possiamo scattare in JPEG e quindi avere le fotografie già pronte, già elaborate dalla macchina, pronte per i social o per tutti gli scopi che vogliamo, oppure entrambi i formati. Però che cosa succede se abbiamo fatto qualcosa di particolare e ci dimentichiamo quell'impostazione? A me per esempio capita di dire ok normalmente io scatto in RAW però sono a un evento corporate noioso dove vogliono soltanto le foto di quello che è successo e non gli interessa la post produzione allora scatto solo in JPEG. Così ho meno file più leggeri, glieli mando direttamente, magari sono pronti anche subito per la condivisione via wifi. Insomma ho impostato solo JPEG. Ma che cosa succede se io poi spengo la macchina e me la dimentico così? Succede che la volta successiva quando comincio a scattare magari sto facendo qualcosa dove il RAW mi serve e se me lo sono dimenticato sto salvando tutti i JPEG e questo può essere un vero problema. Proseguiamo parlando della compensazione dell'esposizione. Sapete che quando scattiamo in modalità priorità abbiamo la possibilità di correggere il tiro ovvero priorità la nostra macchina espone automaticamente ma noi possiamo dire alla macchina sì tu stai esponendo automaticamente però guarda che stai interpretando la scena troppo chiara o troppo scura. Quindi ti do degli step di compensazione. Che cosa succede se ci dimentichiamo questi step di compensazione inseriti? Succede che la volta successiva magari la scena verrà esposta correttamente dalla macchina in automatico e le nostre fotografie verranno fuori tutte sbagliate perché abbiamo lasciato questa compensazione. Quindi la scena viene esposta correttamente ma la macchina ha l'istruzione di bypassare quella che è l'esposizione corretta. Una cosa molto fastidiosa da dimenticare inserita è una cosa che in tanti mi avete scritto dicendomi ma la mia macchina sbaglia tutte le foto. Com'è possibile? Cosa succede? Hai controllato che la compensazione dell'esposizione sia a zero? Porca miseria hai ragione! Cosa da tenere a mente. Una delle cose in assoluto più fastidiose che mi capita a volte di dimenticare inserita sulla mia fotocamera è il timer. Perché a volte capita di usare il timer ma non sto parlando di farsi l'autoscatto. Capita anche in contesti più professionali volendo. Per esempio io ho messo la mia fotocamera su tre piede. Sto utilizzando il telecomando. Magari il telecomando ha la stessa impostazione dell'autoscatto. Cioè io imposto autoscatto con telecomando se premo il tasto di scatto parte un timer. Se premo col telecomando la fotocamera scatta la fotografia. Però se io mi dimentico quell'impostazione inserita e spengo la macchina e la metto via la prossima volta che la tiro fuori vado per fare una foto e mi parte il timer da due o dieci secondi. E questo è fastidiosissimo perché vuol dire che io perdo dieci secondi che devo stare lì ad aspettare che il timer scada. Se non voglio perdere tempo devo spegnere e riaccendere la macchina. Comunque ho perso un sacco di tempo e magari mi sono giocato la scena che avevo davanti che magari è irripetibile. Quindi cosa estremamente importante ricordiamoci di togliere il timer se l'abbiamo utilizzato. Prima di mettere via la macchina togliamo quel maledetto timer. Un'altra cosa che ci dobbiamo ricordare e questa è un po' meno grave è il profilo colore e lo spazio colore che abbiamo impostato. Questo vale solamente se stiamo lavorando in jpeg ovviamente. Però visto che capita di lavorare in jpeg dovete sapere che noi abbiamo la possibilità di scegliere un profilo colore quindi può essere lo standard, il neutrale, il bianco e nero. Abbiamo tanti profili che possiamo scegliere e daranno un look diverso alla nostra immagine. Abbiamo la possibilità anche di scegliere uno spazio colore che di solito è srgb per il web o adobe rgb per la post produzione o la stampa. Ora che cosa succede se lo cambiamo per un utilizzo particolare e poi ce lo dimentichiamo? Può non succedere niente perché le foto possono andare bene comunque però può anche essere un problema perché se noi stiamo scattando con un profilo colore monochrome per esempio ci ritroviamo con tutte le foto in bianco e nero e quel colore non si recupera più. Parimenti se stiamo scattando con un profilo colore adobe rgb 1998 non è così grave però ci ritroviamo con delle foto lievemente più pesanti e dobbiamo convertirle tutte in srgb prima di postarle sui social o di inviarle ai clienti se l'utilizzo è digital. Se invece l'utilizzo è stampa va anche bene ma non succede quasi più. Di solito l'utilizzo principale è social instagram quindi se abbiamo scattato quel profilo sbagliato poi in teoria dobbiamo convertirle tutte altrimenti cosa succede? Succede che verranno postate il colore verrà ricalibrato automaticamente avremo delle foto con dei colori meno carichi ed è un peccato. Selettore sistema foto sistema video questa sembra una stupidata anche perché la maggior parte delle nostre camere in entrambe le modalità fanno sia le foto che i video però se abbiamo il selettore impostato su foto o su video abbiamo delle opzioni in più per le foto o per i video. A me ogni tanto capita di utilizzare le fotocamere in maniera ibrida quindi sto facendo delle foto poi passo in modalità video poi torno in modalità foto mi succede ancora di più con le mirrorless perché sono fatte apposta sono proprio le ibride per eccellenza. Ora però che cosa succede se io ho impostato per esempio la modalità video e l'ho lasciata così e quando mi ritrovo a fare lo shooting successivo invece mi serve la modalità foto. Beh succede per esempio che quando io premo l'otturatore potrebbe partirmi la registrazione video invece di scattarmi la fotografia e questo ovviamente può essere un problema ed è una cosa a cui devo stare attento e accorgermene prima di cominciare a lavorare ancora meglio sarebbe rimetterla in modalità foto quando abbiamo finito di girare i video se quella macchina è adibita prevalentemente a un utilizzo fotografico altrimenti siamo sempre a rischio di accendere la macchina e cominciare a lavorare col sistema operativo sbagliato è un'altra cosa da tenere a mente. Distanza di autofocus sul nostro obiettivo ho sempre qui il mio 100 mm e non so se riuscite a vedere bene però qui ci sono tre selettori questi tre selettori sono lo stabilizzatore che abbiamo già visto prima autofocus manual focus che hanno tutti gli obiettivi e poi c'è un terzo selettore questo terzo selettore serve a impostare la distanza il range di messa a fuoco quindi io posso dire al mio obiettivo che deve focheggiare dalla minima distanza di messa a fuoco fino a infinito oppure gli posso dire che deve stare nel range macro oppure gli posso dire che deve stare nel range teleobiettivo è un sistema che serve per far fare meno fatica al sistema di messa a fuoco e per renderlo più veloce se io so che sto facendo macro gli dico di non andare a cercare a infinito ma di andare a cercare solo vicino viceversa se sto facendo fotografie di qualcosa di lontano gli dico di non andare a mettere a fuoco nell'area macro ma di mettere a fuoco solo da una certa distanza in poi è molto utile ovviamente io gli posso anche dire prendi tutta la distanza disponibile ma che cosa succede se mi serve per un utilizzo specifico e me lo sono dimenticato nella posizione sbagliata per esempio se sto facendo macro e l'ho lasciato impostato come teleobiettivo non riuscirò a mettere a fuoco la mia scena vicino e magari ci metterò anche un po a rendermi conto del perché quindi è un'altra cosa su cui tenere sempre gli occhi un'altra cosa di cui mi preme parlarvi è il metodo di drive ovvero stiamo scattando a foto singola o con la raffica questa è un'impostazione molto semplice da da cambiare sulle nostre fotocamere di solito c'è un bottone dedicato e poi con una ghiera si seleziona non ve lo faccio vedere perché non voglio parlare solo di canon vale per tutte le macchine confido che ognuno di voi sappia come si imposta la raffica sulla propria fotocamera è un'impostazione di cui ci dobbiamo ricordare perché se facciamo sempre sport o avifauna vogliamo lasciare inserita la raffica probabilmente invece se facciamo qualcos'altro come ritratto matrimoni newborn magari la vogliamo togliere ora cominciare un nuovo shooting e avere la raffica che parte in automatico perché l'abbiamo lasciata impostata può non essere l'inizio migliore che avevamo immaginato quindi secondo me è sempre bene controllare quest'opzione e rimetterla come la vogliamo di default dopo un lungo utilizzo e siamo arrivati all'ultima cosa che vi devo segnalare una cosa che capita anche a me di dimenticare il modo di lettura ora vi avviso innanzitutto che ho già un video pubblicato da diverso tempo sui modi di lettura della nostra fotocamera lo metterò in sovraimpressione appena terminerà il video quindi guardate fino alla fine perché avrete un video da recuperare se non l'avete ancora visto in cui vi spiego passo passo come funzionano i modi di lettura l'importante la cosa da ricordarsi è che se utilizziamo sempre lo stesso modo di lettura e lo cambiamo per un utilizzo particolare dobbiamo poi ricordarci di rimetterlo com'era vi faccio un esempio su tutti io normalmente utilizzo il metodo di lettura matrix perché mi viene comodo mi aiuta a fare determinate cose ogni tanto però mi capita di utilizzare spot quindi non prendo più la lettura sulla media della mia immagine ma prendo la lettura solamente al centro mi serve per esempio se voglio esporre la luna dico una stupidata espongo solo la luna e mi viene molto comodo però che cosa succede se me lo dimentico così se me lo dimentico così e poi scatto in priorità avrò tutte le foto sbagliate e ci metterò del tempo a capire perché farò fatica a capire perché quindi questo va un po insieme alla compensazione dell'esposizione è un qualcosa che può sballarmi completamente l'esposizione io non capisco perché faccio fatica a ricostruire che cosa è successo queste sono dieci cose che secondo me è meglio tenere a mente quando si è appena tornati da uno shooting sono cose da ricontrollare possibilmente sono cose su cui fare mente locale prima di andare a fare un nuovo servizio fotografico una nuova gita o qualsiasi altra cosa perché sono tutte cose che se ce le dimentichiamo rimangono così e poi faremo fatica a ricordarci a ricostruire quello che abbiamo fatto sono cose che in alcuni casi possono compromettere la buona riuscita del nostro shooting perché ci rovinano totalmente le foto e non saremo in grado di consegnare il lavoro o anche semplicemente il risultato che avremmo desiderato bene amici io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale di supportarmi con un piccolo like mi raccomando date un'occhiata al video che compare tra pochi secondi in sovraimpressione io vi ringrazio come sempre di aver passato un po del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti